Chi diceva che ottenuto l'assessorato, la lista Teodoro si fermasse nel migliorare delle delibere, sbagliato di grosso perché come vedete, come hanno potuto vedere i consiglieri comunali in aula, abbiamo presentato un emendamento con una serie di punti che hanno cambiato radicalmente il piano sociale. Ci siamo soffermati appunto su quello che è il nostro cavallo di battaglio sociale e che noi ritenevamo non essere quello presentato dalla Giunta adeguato totalmente all'interesse della comunità. I punti più importanti sono innanzitutto la reperibilità degli assistenti sociali, riteniamo che una città di 130.000 abitanti deve avere in stato di necessità la reperibilità degli assistenti sociali, non è che se c'è un caso di litigi in famiglia si possono creare dei disagi e quant'altro, la polizia praticamente si trovava prima impreparata nel risolvere i problemi, per cui abbiamo dovuto individuare la reperibilità degli assistenti sociali che poi a ruote, a catena, potevano individuare delle risoluzioni immediate. Poi per quanto riguarda la cancelleria, erano scomparse le famose borse studio della regione, le abbiamo introdotte all'interno del PIS, quindi si poteva intervenire e si può intervenire chi vuole attraverso gli assistenti sociali per chi ha necessità di comprare quaderni, astucce e quant'altro per fornire ai propri figli l'arredamento scolastico. E poi ancora l'aspetto riguardante al pagamento delle bollette, prima chi si ricava presso le politiche sociali si vedeva pagato non totalmente ma in parte la bolletta. Noi abbiamo tolto in parte, abbiamo sostituito la parola totalmente perché riteniamo che chi si rivolge presso i servizi sociali ovviamente ha un'esigenza impregnante per cui non è che si può chiedere la compartecipazione ma bisogna rilevarla totalmente.